Ciao amici, oggi faremo l'unboxing e vi dirò le mie impressioni su questo Mi Wi-Fi Range Extender Pro è sostanzialmente un ripetitore Wi-Fi della Xiaomi che costa meno di 20€ in realtà se trovate l'offerta giusta riuscite a portarvelo a casa con addirittura meno di 10€ allora, cominciamo, confezione piccolissima come vedete, arriva a casa questo pacchettino a me è arrivato ad un giorno dall'ordine che ha all'interno, vi faccio vedere, una serie di manuali in tutte le lingue del mondo e chiaramente lui, quindi il Range Extender Range Extender che ha due antennine e caratterizzato da questo forellino che ci risulterà utile per fare il reset del dispositivo qualora andassimo a sbagliare qualche configurazione allora, in termini di manuale, come vi dicevo, ci sono tutte le lingue quindi cosa interessante, se vogliamo, da vedere è che è presente all'interno del manuale il QR code per scaricare l'app che ci serve per configurare il dispositivo perché in pratica tutta la configurazione del dispositivo la faremo via app la faremo insieme via app, quindi vi faccio vedere passo passo come funziona quindi direi che sull'unboxing c'è ben poco da dirvi se non segnalarvi che non danno lo spillino per il reset quindi vi dovete attrezzare voi o quello per il cellulare piuttosto che uno spillover e proprio per il resto nulla da segnalare, quindi passerei alla configurazione sull'app che è di sicuro più interessante allora, passiamo all'app dunque l'app Xiaomi per la configurazione di tutti i dispositivi Xiaomi è questa che vedete, quindi Xiaomi Home e potete sia scaricare l'app inquadrando il QR code che vi ho fatto vedere prima sul manuale di istruzioni piuttosto che andarla a ricercare sul Play Store quindi entriamo nell'app qui, vabbè, vedete che già è presente un device Xiaomi che ho per raggiungere un nuovo dispositivo è necessario andare a premere il tasto più in alto a destra vabbè, devo giustamente abilitare il Wi-Fi perché lui ricerca i dispositivi tramite Wi-Fi e già ha trovato il Wi-Fi Range Extender se non lo dovesse trovare in automatico dovreste andare a cercare tra la pletora di dispositivi che Xiaomi mette a disposizione, quindi qua troverete di sicuro quello che è il vostro dispositivo nel mio caso, visto che l'ha trovato, io lo seleziono e a questo punto devo indicargli quella che è la rete a cui si deve connettere quindi scelgo la mia rete di casa che in questo caso è questa la TP-Link inserisco la mia password vabbè, magari l'ha cripto però aspettate che non me la ricordo vediamo ok quindi configurata la rete correttamente io accetto il contratto di licenza anzi vi faccio vedere un'altra cosa che è interessante come vedete, tra tutte le reti che posso vedere non riesco a configurare il router su tutte le reti questo perché mi permette di configurare solo reti sicure quindi reti protette con password dunque, le reti aperte piuttosto che le reti che lui identifica come reti pubbliche non sono gestibili tramite questo Wi-Fi Extender quindi, che ne so, io ho per esempio un account con una Wi-Fi FastWeb volendo non posso utilizzarlo su questo router piuttosto che il mobile Wi-Fi di Vodafone che è una rete aperta che prevede poi l'autenticazione in una seconda fase non è possibile estendere il range di una rete di questo tipo con questo device quindi, selezionando invece la rete nostra, in questo caso la rete mia che è protetta normalmente da password, andando avanti si... ok, connetti vedete che l'app si connette al dispositivo e gli manda le informazioni necessarie per configurare correttamente la rete dunque, mi informa che si è connesso correttamente la connessione è riuscita va bene quindi attendiamo un pochino e mi aspetto che completi tutto a breve diciamo che adesso il tratto di comunicazione tra dispositivo e router vedo che già la lucina è verde sul device adesso è perfetto quindi adesso lo metto sì, va beh, in salotto avanti va bene sì ok rete estesa con password con password accesso ok quindi vediamo di configurare la rete in modo tale che sia facilmente riconoscibile tra le wifi che vediamo dunque ok ah, rete sì, vabbè, giustamente rete non può essere c lo spazio quindi estesa dovrebbe andargli bene questo qui mettiamolo a minuscolo ma non è questo il problema il problema era questo quindi facciamo così vediamo se la password deve contenere accesso test ci riusciremo, eh ok quindi nell'attesa che il dispositivo si riavvi vediamo ok dovrebbe aver finito proviamo a connetterci direttamente alla rete wifi nuova che abbiamo creato quindi rete estesa era la password era accesso test vediamo si connettiti non si connette perché ok si è connesso quindi adesso per verificare che tutto funzioni come si deve io vado a disabilitare la mia connettività dati e provo a collegarmi con questa rete quindi andiamo che ne so su immobiliare.it e vedete che sono connesso su rete estesa e navigo tranquillamente quindi in sostanza è lui è il device l'extended che mi sta fornendo la connettività in maniera corretta quindi tornando sull'app non so perché mi dà comunicazione anomala però mi vuoi fare estendere qui la rete è configurata come ci siamo detti prima mi dà anche informazioni circa la potenza del segnale che qua sembra buona e insomma dovrei dovrei avervi raccontato tutto unico minus è proprio quello che non è possibile estendere magari reti pubbliche però per un discorso di sicurezza è una una scelta insomma sensata spero di esservi stato utile e se vi servono delucidazioni o avete dei dubbi scrivetemi nei commenti e vedrò di rispondervi ciao a tutti